amici e amiche di Peppe Hitech bentornati su Star Wars Jedi Fallen Order allora il nostro cal si deve arrampicare su questa montagna con i nuovi artigli trovati ops ed è tornato anche il pipistrellaccio cattivo dobbiamo fare attenzione a non farci colpire da questi massi giganti che stanno precipitando su di noi quindi veloci veloci e senza farci colpire dal pipistello arrampichiamoci e cerchiamo di arrivare fino sopra per metterci forse in salvo si ce la facciamo no oh no ci ha catturato e ora e ora che devo fare oh no ah ecco è un filmato quindi sta se la grande grande cal grande cal vai cal acchiappiamo saliamogli sul dorso usiamo l'opposto dell'uccellaccio ecco abbiamo acchiappato il pipistrellaccio e ora è nostro il pipistrellaccio vieni qua pipistrello gigante ce la faremo ti sconfiggeremo aia dobbiamo ribeccarlo eccolo l'abbiamo beccato bene forza che ti sconfiggeremo ma tutti questi combattimenti di cal tra passaggio bravo sopravvive sempre a tutto complimenti vendita ok grande cal ok ehi iai 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 non lo so neanche io come faremo Facciamo l'altro salto Va bene, mi fido Vai Carl, un altro salto Dove sei? Dove sei? Eccolo, l'abbiamo beccato Ce l'abbiamo fatta Va bene ragazzi, ho tagliato tanti tentativi Mica subito l'ho beccato il nostro pivistrello Mica subito Ho fatto diversi tentativi Ma alla fine ce l'ho fatta Vai Oh, si è spaventato E' morto di paura E' morto per lo stremo delle forze Che è successo? Grande Vai Carl Oh Jaden ce l'abbiamo fatta, hai visto? Sì Dopo tanti tentativi ce l'abbiamo fatta Tutto bene Eh Per fortuna Ah, Gorgara è sconfitta Bene Questa creatura Ok Dove dobbiamo andare ora? Ehm No, andiamo prima di qua Vedo che c'è qualcosa di verde qui Che possiamo andare Andiamo un po' Allora Allora Noi dobbiamo andare Comunque Dobbiamo andare Dove il nostro obiettivo è di là Quindi Sì Forse Per di qua Possiamo andare Sì Ora abbiamo gli artigli per arrampicarci Arrampichiamoci su Farsi così Riusciamo ad arrivare Alla Mantis Vediamo Stiamo andando nella direzione giusta Boh Penso di sì Penso Allora Vediamo po' Ok Dove sono le tue abilità? Ah No Non funziona Aiuto Io voglio tosse Vai Forza Vai Vai Forza Dai Cal Non ti fa sconfiggere da loro Ora Oh ma c'è anche il mostricione Ancora Forza Ah Oh i mostro Ah 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 Ok Loro sono sconfitti Ah La tua morte è vicina La tua sconfitte Ok Ok questa Ma dov'è l'altro Che mi spara Ah eccolo Vai Sparammi la freccia Dai Attenzione Eh E vai Falla un'altra volta Dai Sparamela Dai Che fai Hai paura? Sono qua Spara 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 pulito Dai Spara Ah non sparate Avete paura Vediamo un po' dove devo andare Ah devo andare lì sopra Vai 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 Crappati Grande cal Ce l'abbiamo fatta Vai Vai Sali 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 Ok Eh andiamo di qua Così Dai Di qua Di qua Di qua Ok Di qui E ora Ok così Andiamo così Vai Che Non avevo idea Che fossi qui Quando ho abbassato il ponte Eh Devo vedere cosa succedeva Come con la tagliatrice su Kashyyyk Va bene Siamo andati nella direzione giusta allora Allora Vediamo un poco Ah però quindi Ci può essere qualcosa di interessante Sì C'è qualche altra cosa per la nostra spada Bene Vediamo cosa hai trovato Nuo poncho ottenuto Vagabondo Un Ecco Un ecco Richiama ecco Richiamiamolo Vediamo cosa dice È troppo pericoloso Uccidiamolo Ok No lo portiamo da fratello Viscus Ah Fratello Viscus Il prigioniero Va bene Andiamo a vedere Oh c'è un'altra Box qui Vai Vediamo che cosa ci regala Questo box Che cosa ci regala Nuo materiale per spada A laser ottenuto Dolovite Ah va bene La dolovite Ok Allora Ora Ora Qui Non mi fa andare Ah strano Il primo posto stretto Dove non mi ci fa Non mi ci fa infilare Qui la stessa cosa Direi che in questa strettoia Invece sì Ah bene bene Ok Vai 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 Cal vai 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 Ok Bene Perfetto Siamo arrivati Ok E ora C'è qualcosa sopra Ci dobbiamo arrampicare Ah sì Non avevo visto qui Bene Andiamo su Andiamo qui Dobbiamo saltare lì Ok Andiamo Vai 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 Veloce Veloce Perfetto Perfetto Ci arrampichiamo Saltiamo di nuovo Così Poi andiamo qui Poi scendiamo qui Ah un punto di salvataggio Recuperiamo un po' di energie Va Ok Ora Fatto qui Dove mi suggerisce Di andare Ah devo saltellare Tutto per di qua Allora Devo Ah Fermo Ecco qua Via Ah 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 Vai Ok Ah ragazzuoli Venite qui Da zio cal Venite su Via Vieni qua Vieni qua Ah Oi Oi Ok Ah Oggi Sarei più resistenti Del solito Ah Oh Ok I tuoi colpi Sono deboli Ok Vai Ecco qua Vieni Vabbè Arrivo ragazzi Pronto a morire Taddy Ai Vieni 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 Ti ho preso Un colpo a seco Eeeh Oh De qua Perfetto Dai Cal Forza Allora Un primo punto È di qua No Dove sei Ah Vieni 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 da zio cal Ecco qua Vieni Spara C'è la roccia Va bene Oh Oh Allora Vediamo un poco Dove dobbiamo andare Di qua Dove devo andare Vediamo un poco Dove mi importa Che io devo andare Oh Ce ne sono diversi Passaggi Allora Capito Dove dobbiamo andare Jay Ora ti faccio vedere Guarda Guarda La Vedi Ci stanno Quei cosi Dove ci possiamo Aggrappare Vedi Vedi E dobbiamo salire Qui Poi ci buttiamo Qua giù Ehi Dovrai fare meglio Ah Oh no Così non vedo niente Però non vale Ecco Oh Via Qui c'è un altro box Vediamo che cosa ci dà Questo nuovo box Che cosa ci dà Che cosa è Nuova verniciatura Per la mantis Ottenuta Ah va bene Ok Nuova verniciatura Per la mantis Là non si può andare Dobbiamo andare di qua Vediamo un poco Forza Ah Un altro Uno di questi Ok Via Allora Di là C'è un eco Se vedo bene Sì Vediamo cosa dice Eh Che cosa dice Il prigioniero Che è stato qui Sono stufo Di attendere Istruzioni Dalla sorella Lo straniero Deve essere eliminato Ok Oh Dov'è Ah Eccolo lassù Oh Beh Vai spara Spara Non spari Bene Ah Ah E che fare Lo fai a posto Allora No Dove devo andare Ora aspettate Fatemi tagliere Da qui Vediamo un poco Qui a destra Qui a destra Ah qua Non avevo visto Che c'era Un anfratto Ah Ora lo andiamo a prendere Alle spalle A quello Uh che bella Che bei No c'è un punto Di salvataggio Ah Va bene Ah c'è la fune Non l'avevo vista Sto dicendo Dove mi devo aggrappare Jaden Non l'avevo vista Eccolo qua Ah Ok Ciao Siamo arrampicati Da te E ora Di qua Saliamo 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 Oh Andiamo di qua Saliamo Ancora Ancora Sempre più su Eh Siamo arrivati a quota 5.000 metri Al momento ci serve La bombola d'ossigeno Ok Ah Eccola la mantis Aspetta Giura di aver visto Qualcuno fuori Dalla mantis Datomir Gli fa male Beh Come sempre Ok Stai bene Sì Sì Sto uscendo da un villaggio Dei fratelli della notte Mi dirigo alla tomba Tutto sotto controllo Quindi Beh Sembrerebbe Ok Eccoci qua Infatti non mi dovevo buttare giù Stavo per morire Inutilmente Beh Beh Dovemmo essere avanti Alla mantis Eh Avanti Eh vicino alla mantis Oh ma io mi devo curare un po' Ho un punto di salvataggio Aspettate Vediamo un po' Se c'è un punto di salvataggio Qui Si recuperiamo un po' Di energie Altrimenti Mi uccidono Non c'è un salvataggio No Beh Così va bene Dai Non ne sprechiamo altri Potrebbero dovermi servire Avanti Ok Ah 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 Ok Muori Ah Torniamo Alla mantis Su No 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 Dobbiamo arrivare là Quindi dobbiamo andare di qua Vediamo Si Ok Ok Recuperiamo un po' di energia Allora Eccoci qua ragazzi Allora La direzione è quella giusta Delle rovine Ora incontreremo sicuramente I fratellastri qua Eccoli là Maledetti Morite Ok Uno è andato Dov'è l'altro Ve lo vedo Dai Muori Forza C'è ancora uno No Li abbiamo sconfitti tutti Bene Quindi andiamo di nuovo di qua Qui stanno le rovine Ora con il doppio salto e rampini Ce la potremo fare Nessun segno del vecchio L'avranno preso i fratelli della notte No Sono caduto oggi Ok Via Eeeh Via Ah ah Venite Venite su Forza Fratelli Aiuto Ah Cadrà ai nostri piedi No Venite voi qua Che io non voglio cadere giù Ah e dai Forza Io ti fermerò Ok Bene Ora dobbiamo salire là E arrampicarci Via Oh Forza 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 Finalmente siamo riusciti Ad arrivare qui Dai Dai ce la possiamo fare Andiamo alla tomba Andiamo alla tomba Forza Forza Dai che ce la facciamo Ok Dai Oh BD Che hai trovato Che cos'è Un'anfora No Ah Bene Ok Interagiamo qui Vediamo un po' Che passa in questa fessura ora Ah no C'è La forza C'è la forza La forza Che dice Che ti ha detto Qualunque cosa fosse Non c'è più Ah E quindi Quindi prima salviamo Salviamo la partita No che dici Jaden Della musichetta Si Un ricordo Dobbiamo imparare Una nuova lezione Ecco il nostro maestro No Ciao Dimmi Va bene Certo Quando vuoi Perfetto Vai ad attentrarti Sempre Bene Allora dopo Ciao Ciao Quanto era sto curioso Da piccolino Cal Va bene Andiamo di qua Ok Ma si Vedo andare ad addissare Maestro Maestro Bene Non dobbiamo far Attendere Maestro Allora Via così Via così Via così Poi lì mi pare Mi pare che sporco Un pochettino Forse dobbiamo fare Così Sì E vai E dopo Milioni di tentativi Che vi ho cancellato Ragazzi Naturalmente Eccomi qua Sono arrivato Al punto Giusto Ok Va bene Perfetto Ah Così è No Aspettate Sono caduto giù Quindi devo fare Così Così Oh Ho capito Sì 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 Ce la possiamo fare Ragazzi Allora Via Saltiamo così Così Vai Sono riuscito Ad aggrapparmi Ok 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 Saltiamo Di qua Saltiamo Così Ok 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 Vengo Vengo lì Quindi Ah Non finirmi giù Non finirmi giù Dove andare di qua Sì Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Dopo svariati milioni di tentativi Che vi ho abilmente cancellato Ce l'abbiamo fatta Ok Prima però Abbiamo degli ordini Ah Bracca è al sicuro A breve andremo su Migito Sì Devi Maestro Tutto bene C'è qualcosa Che non va Ah No No Ok Perfetto Che succede Che succede Perché il comandante Padawan È successa una cosa terribile I cloni ci hanno tradito Non ci sono risposte alle tue domande Non ora Dobbiamo scendere dalla nave In fretta Hai gusci di salvataggio Passa dalla manutenzione Ci siamo addestrati per questo Te lo ricordi? Sì Ok E tu? Cercherò di distrarli E poi ti raggiungo Se non sono lì Quando arrivi Parti senza di me Va bene Ci ritroveremo su Bracca Sono stato chiaro Ok Sì maestro Mi sa Che non lo rivedremo più Ma se qualcuno prova A ostacolarti Non esitare Vai Che la forza sia con te Vai Maestro Con il tuo spirito Ti direi Eccolo Sparategli No Fermi Ah E di qua Dove devo andare? Di qua Per proseguire Devo tirare quella Vai Vai Carl Non ha alcun senso Poverino Cosa sta succedendo? Ah Ecco la storia dell'infanzia Di Carl Cerchiamo ovunque Non può essere lontano Non può essere lontano Manca di nuovo l'aria Ehi Cosa è stato? Dura Vai Vai Carl Subiamo perdite Da palla È eliminato diverse squadre Sparare a vista Ricevuto Ok Ok Non capisco Che cosa è cambiato Eh Intrudo nella manutenzione Sono vicino al turbascensore Forza vai che c'è L'abbiamo Quasi è fatta Vai Carl L'abbiamo fatta Possiamo scappare C'è Ah Ok Ok Vai Vai Carl Meno male che il tuo addesamento Ti ha permesso di fare questi salti Se no Era finita Vai Vai Carl No Sei saltato da parte sbagliata Carl Vai Carl Forza Vedo il piccolo Padawan È nel turbascensore Ah Ok Via Posso farcela Vai Non devo fermarmi Mamma mia come si aggine Poi pensare motapall No La mia spada laser E ora È arrivata in mezzo Va bene Padawan La tua spada laser Mi dispiace maestro Continua a salire Io ti ragiono Ok Continuiamo a salire Ma potevi lanciare un'altra Continua a salire Da dove salgo? Che faccio a salire ancora? Mestro Mestro qualche indicazione in più Ah C'è la corda Non l'avevo vista Bene Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Andiamo Forza 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 Ce la possiamo fare Vai Ok Forza Vai Infilati lì Bravissimo Cal Grande Cal Vai Il maestro È qui sotto di noi Forza C'è uno sblocco manuale Ok Attivalo Non riusciremo a scappare Sì maestro Oh Di là di quella porta Sì ma non riuscirà a passare Ci vuole troppo tempo Per aprirsi un barco Con la spada laser Aspetteremo qui Finché non sarà circondato No E andremo a unire Dove dobbiamo andare E qua Dove Non ho Ah qui Ecco Hai sentito Pronti Vai Oh ecco là il maestro Eh Non mi pare molto agile il maestro Svelto padawan Dobbiamo andarcene Ok Eh arrivo E qua Sì Vai Forza Vai Ah Ecco il maestro Oh che fissatone Vai bene Oh Sono tanti Ah no L'hanno ferito No L'hanno ucciso Ah ecco la cicatrice lavante Eccola la cicatrice in faccia Oh Non ce la fa Oh Ho sovraccaricato i reattori L'esplosione coprirà la nostra fuga Questa guerra Non è ancora finita Mio padawan Oh Povero maestro In attesa del segnale del consiglio dei cedi Ah che obiezione ha fatto il maestro E come Carl si è procurato quella cicatrice Confidati solo della forza Silvestro Ma è morto Ma forza Ecco E ancora in qualche sorta di limbo Si Padawan Nice E ora Che tu venga instruito Resterai sempre un debole Bene Il mio sangue E sulle tue mani Apprendista Tu sei un fallimento Sei un debole Mettono la prova Vedere se diventa un Sith Tu non sei un Jedi Era una prova Ho distrutto la spada laser E ora Possiamo fare qualche altra cosa Niente Che possiamo fare Un'altra via Per di là Bene va bene ragazzi Abbiamo visto la storia dell'infanzia di Carl Per oggi mi fermerei qui Dopo aver visto come è morto il maestro E nel prossimo episodio vediamo un pochettino Che cos'altro deve affrontare Carl E da quanto ho capito Probabilmente Ora Infatti Ha la spada laser Rotta Quindi è diventata inutile Va bene ragazzi Se vi è piaciuto il video Cliccate sul mi piace Commentatelo se volete Ricordatevi di iscrivervi Al canale YouTube e Facebook Di condividerlo E anzi condividerli In questo caso Stato ho detto bene condividerli Comunque sulla bacheca dei vostri social Di dirlo a parenti e amici Conoscenti E farli iscrivere ai miei canali Noi ci vediamo con il prossimo video E io e Jaden vi salutiamo E come dice Jaden Devo fare il saluto Che mi dice Jaden Ciao a tutti E vi faccio salutare anche da lui Ciao Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao Ciao